Nel 1961, due anni prima di morire, Angelo Roncalli, il Papa Buono, avrebbe incontrato un alieno. L'incontro sarebbe avvenuto nei giardini di Castel Gandolfo, alla presenza di un testimone speciale, Loris Francesco Capovilla, il segretario particolare di Papa Giovanni XXIII. La notizia apparve su un quotidiano inglese e fu poi ripresa da Sun nel 1985, ma nessuno ci fece caso. Oggi quell'incontro torna alla ribalta grazie a un filmato apparso su YouTube e fa il giro del mondo. Ecco tutta la storia di un contatto molto particolare. Camminavamo, il lago a pochi passi, il silenzio di uno di quei borghi più belli d'Italia. Camminavamo, come avevamo fatto mille volte in quegli splendidi pomeriggi d'estate, uno a fianco all'altro, come due amici, come persone qualsiasi, che hanno voglia di starsene un po' in disparte fuori dalla routine quotidiana. Era luglio, un pomeriggio di luglio del 1961, quando accadde. Gli avevamo sopra le nostre teste. Luci. Erano luci colorate, azzurro, arancio, ambra. Qualche minuto e poi... e poi accadde. L'imponderabile, l'impossibile. Ciò che è anche difficile da raccontare. E allora tutto d'un fiato. Le luci sono astronavi. Le astronavi sono dischi nel cielo turchino d'un pomeriggio qualunque a Castel Gandolfo. Si muovono silenziose. Stanno per qualche minuto su quelle due figure inconfondibili, che camminano fianco a fianco, come persone qualsiasi. Poi il contatto. Una delle astronavi si stacca dallo stormo. Atterra. Si ferma nel lato sud del giardino. Il portellone si apre e dalla carlinga viene fuori qualcosa. È assolutamente umano. Solo che... solo che ha una luce intorno. Una luce che lo avvolge. Caddero in ginocchio, i due. Poi, lui, si alzò e andò senza esitare verso l'uomo. Verso quell'essere assolutamente umano, avvolto da una luce tenue, delicata, penetrante. Parlarono per circa venti minuti, ma non si potevano sentire quelle voci. Non sentì nulla, ma parlavano. Gesticolavano per venti minuti. Mille e duecento infiniti secondi. Poi, l'uomo voltò le spalle e se ne ritornò da dove era arrivato. Lui mi guardò e pianse. Sembra l'incipit di un romanzo di fantascienza da quattro soldi. Eppure, una ventina di anni dopo, il Sun lo spara in prima pagina, attribuendo il racconto niente meno che a Loris Francesco Capovilla. L'arcivescopo Loris Francesco Capovilla, il segretario personale di Angelo Giuseppe Roncalli, Papa Giovanni XXIII, il Papa Buono. Per anni, Roncalli si tenne dentro il ricordo di quel pomeriggio e anche io ho rispettato il suo silenzio. Loro parlavano e non mi chiesero di avvicinarmi. Era giusto così. Ma non potrò mai dimenticare le parole di sua santità quando l'uomo si allontanò e scomparve con la sua astronave. I figli di Dio sono dappertutto e anche se a volte abbiamo difficoltà a riconoscere i nostri stessi fratelli. Questo avrebbe detto Papa Roncalli all'arcivescovo Capovilla. 50 anni dopo il racconto di quello strano pomeriggio ritorna in tutto il suo mistero, lasciando dubbi, perplessità, ma anche un filo di speranza in quanti da anni sono alla caccia di una prova definitiva. Una prova che possa dimostrare l'esistenza di razze aliene. Grazie a tutti.